Dunque, con questo mio intervento sul sito dell'Università Yulm, il professor Canova, il nostro rettore, ha ritenuto di avviare in forma pubblica, diciamo, un dialogo che in parte si riferisce a un monitoraggio e in parte si riferisce a una rassegna di opinioni, attorno al più grande caso di comunicazione che c'è in agenda in questo momento in Italia e nel mondo, e cioè il caso coronavirus. Io non credo che questo onore mi venga fatto per la persona, ma per la materia che insegno da molti anni, che è la comunicazione pubblica. In questa cornice, nella comunicazione pubblica, ci sono tre grandi aree, la comunicazione istituzionale, la comunicazione politica e la comunicazione sociale. Sempre più nella comunicazione pubblica ci sono tanti specialismi, la sanità, il lavoro, l'ambiente, l'energia, l'educazione, lo sviluppo, eccetera. Uno di questi specialismi è diventato una sorta di superuniversità, che è la comunicazione di crisi e di emergenza. I nostri classici delle scienze politiche del Novecento, mi viene in mente Carl Schmitt che ci ha scritto, ci hanno ben spiegato che è su questo fronte che si formano le classi dirigenti. Solo se c'è classe dirigente, i momenti di crisi e di emergenza hanno una comunicazione efficace e utile. Partendo da questa visuale, dalle esperienze che nella nostra università sono anche materia didattica da molti anni, noi abbiamo pensato tre cose. La prima è che il caso richiede un'attenzione permanente soprattutto ai dettagli. La seconda cosa è che il caso presenta oscurità, presenta conflitti e contraddizioni, bisogna cercare di spiegarle. Il terzo è che bisogna trovare una forma di sintesi, anche un po' di semplificazione per portare la questione all'attenzione e al lavoro, all'esercitazione degli studenti. Ecco, su questo è partito un cantiere di monitoraggio. Abbiamo sulla prima settimana di sviluppo del caso messo a punto un dossier, questo, che è corposo, c'è tanta roba, che è stato messo in community per gli studenti. Il rettore si è interessato a questa sperimentazione e abbiamo pensato di aprire una finestra di comunicazione, sia con la comunità dell'Ateneo, sia col mondo esterno, una sorta di open space in cui esperti, ma soprattutto i nostri colleghi, ragioneranno su tanti aspetti di questo tema comunicazione e coronavirus.